E il governo è stato bocciato dal Tar del Lazio anche sulla misura minima dell'indicazione dei prezzi della benzina da parte dei benzinai. La benzina è alle stelle, il governo non è riuscito a fare nulla di quello che aveva promesso a cominciare dalla riduzione delle accese, ma adesso qual è la novità? E' che il Tribunale amministrativo del Lazio ha bocciato anche una cosa banale, non hanno saputo scrivere bene nemmeno l'intervento più semplice che era quel di avere le indicazioni dei vari costi della benzina in varie zone. Il governo è bocciato su tutto, ma devo dire, veramente dei dilettanti allo sbaraglio, veramente una situazione assolutamente ingestibile. E poi c'è la manovra, ha ragione Conte che dice che la manovra è solo tasse, tagli, però i tagli sono alla scuola, i tagli sono alla sanità, i tagli sono alle pensioni, i tagli sono alle cose di investimento, mentre invece è scomparso ogni riferimento agli extra profitti. Vi ricordate quando la Meloni, la destra, diceva che avrebbero con grande forza tagliato i profitti esagerati delle grandi case farmaceutiche, delle banche, di chi è stato, come dire, davvero in grado di arricchirsi in un momento in cui tutti erano in difficoltà. Allora, gli extra profitti le hanno tassati? No, il tema è scomparso dall'agenda. Allora, noi dobbiamo chiedere conto di queste cose e dobbiamo fare in modo, voi dovete chiederlo a quelle persone che hanno votato la destra, a quelli che si sono stati, si sono fatti turlupinare, imbrogliare. Allora, scusate, la benzina dicevano che avrebbero tagliato e tolto le accise, non solo le hanno tagliate. La benzina è aumentata e oggi il Tribunale addirittura boccia anche una cosa minima, perché onestamente avere i prezzi della benzina non è che risolveva il problema tagliando, e anzi, quello che è successo, l'avete sentito, è che invece di livellare in basso i costi, quelli sono aumentati ancora di più. E poi la manovra, la manovra economica è indecente, ogni volta c'è un ping pong, adesso poi hanno inserito in un altro provvedimento addirittura una norma che consentiva ai condannati di avere incarichi nei comuni. Poi si sono stati sbugiardati, in particolare dai parlamentari dei Cinque Stelle che sono intervenuti e hanno fatto una figura pessima, perché ovviamente hanno dovuto dire no ma era per un errore tecnico, fanno solo errori tecnici. Hanno fatto addirittura l'errore tecnico di dire che l'agenzia delle entrate potrebbe prendersi i soldi direttamente dai conti correnti dei contribuenti. Dopo che per vent'anni ci hanno rotto le scatole dicendo che loro non avrebbero mai toccato le tasche degli italiani o messo le mani nelle tasche degli italiani, mentre accusavano sempre chiunque mettesse qualche tassa sui ricchi, anche le più leggere, veniva accusato di voler mettere le mani nelle tasche degli italiani, sempre sugli straricchi, mai su gente semplice. Allora, per favore, bisogna assolutamente su queste cose fare operazione trasparenza, operazione verità, dire le cose come stanno, poi non è che ci vuole tanto, dire le cose come stanno. Io vengo da una settimana, ci siamo visti meno, ma perché sono stato a Rimini e Ecomondo, sono stato alla conferenza sul turismo ex alberghiero, sono stato alla manifestazione per aiutare i cittadini che si battono contro una discarica assurda nelle Marche, pensate la follia tra Pesaro e Urbino, è una campagna bellissima che ha dato origine a, come dire, è stata d'ispirazione ai quadri rinascimentali, cosa pensano di fare un'azienda privata col consenso di una parte politica rilevante, e direi direttamente del centro-destra, è inutile farsi film, stanno cercando di fare una discarica in un luogo assolutamente meraviglioso e la discarica negli anni 20 del 2000 è considerata una cosa del passato remoto, un vecchiume, un oltraggio e quindi sono stato anche lì. Però è importante aggiornarci su questi temi, vergognosa la campagna sulla legge di bilancio, davvero una cosa dire modesta e dire poco, ricambio Antonella, tanti saluti a te e poi saluto tutti Michela, Marco, come mi insegnano i miei giovani ecodigi, tra l'altro ieri a Milano sono stato una bellissima iniziativa di una realtà che ormai a Milano ci sono tutte queste realtà cosiddette acceleratori che fanno, questi cercano delle aziende, soprattutto molte volte di giovani ma non solo di giovani, che fanno innovazione e cercano dei soldi, dei finanziamenti per fare in modo che l'innovazione, soprattutto quella ecologica, proceda con forza. Allora è molto bello quello, ieri ho visto addirittura un ragazzo di 18 anni che insieme a una ragazza più grande e ovviamente ad altri partner sta cercando di scindere la famosa CO2, carbonio e ossigeno, che è quella che come sapete contribuisce al cambiamento climatico, per in qualche modo togliere il carbonio e aiutare una delle tante iniziative per aiutare la lotta al cambiamento climatico. Ma sono tanti suggerimenti, tanti gli spunti, chi lavora sui certificati bianchi, chi lavora sull'innovazione tecnologica, chi lavora per cose che riguardano la sanità per far stare meglio le persone, è molto bello vedere quanto i giovani in particolare stanno facendo queste cose. Noi faremo un'iniziativa, voi sapete perché state nel gruppo EcoTigital verso il 2050 che io ormai sono oltre due anni che martello sul fatto che bisogna fare la transizione ecologica e digitale, che dobbiamo fare insieme e che ci devono aiutare ad andare verso l'innovazione. Allora è importante, faremo, farò il 28, poi lo vedrete in streaming su Radio Radicale, quelli che ovviamente non tutti possono venire, a Roma faremo un evento proprio sulla rivoluzione EcoTigital, anche con l'obiettivo di dare dei suggerimenti a questo Parlamento e ai parlamentari per fare innovazione vera, ed è importante, guardate, è molto importante questo. E poi il teatrino Renzi e Calenda, non possiamo dire due parole su questo, Renzi e Calenda ci hanno dato un altro pezzo dello spettacolo permanente. Voi vi ricordate che Renzi e Calenda sono stati uno, insieme a Letta, una delle cause della grande vittoria della destra, perché loro hanno fatto la campagna contro Conte, hanno in qualche modo aiutato Letta anche in questa scelta di andare contro le capacità che ci potevano essere di fare una coalizione larga, di fare in modo che Conte potesse essere il candidato di un campo largo, lo vuoi chiamare campo progressista, lo vuoi chiamare la sfida per ritornare alle iniziative del governo Conte 2, quello che avevano detto, tra l'altro quelli del PD, subito dopo la fine del governo Conte 2 non l'hanno fatto. E Renzi e Calenda hanno avuto una parte rilevante, Renzi nel far cadere il governo Conte 2 e nel portarci al disastro del governo Draghi, perché il governo Draghi è stato un disastro da un punto di vista di organizzazione delle cose e da un punto di vista di elementari iniziative sociali. Lo smantellamento del reddito di cittadinanza, realizzato dalla Meloni in modo arrogante, è partito con il governo Draghi. Questo bisogna dircelo chiaramente, sono state messe le premesse e è stata una cosa gravissima e Renzi ha avuto una parte rilevante in quella storia, così come poi Renzi e Calenda l'hanno avuto nel creare la finzione del terzo polo, loro si odiavano e avete visto che fine ha fatto questa, quindi è chiaro che era una finzione, era una pagliacciata, era una pagliacciata. Loro hanno fatto un terzo polo fittizio, hanno in combutta, in collegamento con Letta, ha creato questo disastro e alla fine è consegnato alla destra sostanzialmente una vittoria a tavolino e se noi siamo di fronte alla possibilità, perché io non ho paura che qualcuno si venda, se questo Parlamento non potrà fare una riforma pessima della Costituzione, perché questo vuole fare, che svuota il Parlamento e che crea un disastro costituzionale, se non potranno farla con una maggioranza tale da evitare il referendum è solo perché Conte e i Cinque Stelle alle elezioni politiche scorse hanno preso molti più voti di quelli che gli attribuivano. Quando Letta ha fatto la rottura i Cinque Stelle nei sondaggi stavano al 10%, poi hanno superato il 15% e soprattutto in alcune zone hanno conquistato tanti collegi da rendere oggi difficile alla destra di fare una riforma costituzionale con una maggioranza tanto grande in Parlamento da evitare il referendum. Quindi noi dobbiamo attrezzarci al referendum, perché loro tenteranno in tutti i modi di votare questa legge. Una legge che non dà diritti al Parlamento, una legge che crea una figura di una specie di piccolo dittatorello, grande dittatorello, che è nella figura del Presidente del Consiglio e noi dobbiamo cambiare e lavorare per evitare questa legge. E pensare che Berlusconi più volte ha avuto parole lusinghiere, dice Federico sul reddito, nessuno lo dice, invece andrebbe detto. Ma andrebbe detto che onestamente la destra e Draghi sono stati peggiori perfino di quello che diceva Berlusconi. I due terzi bastano ma il voto è segreto. No, no, il voto è palese, questo è il problema. Il voto sulla riforma costituzionale è un voto palese, non è voto segreto, a meno che qualcuno lo chieda, si riesca a ottenere, ma è molto complicato. Quindi il vero problema è che dobbiamo auspicare che ci sia la capacità di una tenuta e che non si svendano dei parlamentari di opposizione alla maggioranza. Questo è quello che dobbiamo fare. E dobbiamo lavorare con grande... è rischioso il referendum, dobbiamo pubblicizzare nelle piazze... è chiaro il referendum è rischioso ma l'alternativa è che viene approvata la legge e basta. Noi dobbiamo lavorare e sostenere i parlamentari dell'opposizione, di tutte le opposizioni che decideranno di dire no a questa riforma, a questo disastro costituzionale. Però poi bisogna prepararsi anche al referendum. Il referendum è chiaro che va spiegato. Va detto che si vuole distruggere la Repubblica che esista, togliendo di mezzo il Parlamento e il Presidente della Repubblica. No, vediamo se i cittadini lo capiscono. Io credo che alla fine, quando l'arroganza eccessiva, come successe con Renzi, se voi pensate, Renzi in realtà proponeva addirittura di togliere il Senato. Quindi era suggestiva la proposta. Però quando alla gente spieghi che il Parlamento, con tutti i limiti che hanno i parlamentari, è comunque una struttura democratica che serve ad avere una democrazia più compiuta, qualcuno lo capisce. Qualcuno lo capisce. Allora, noi dobbiamo innanzitutto su questo iniziare a costruire una capacità di comunicare, di spiegare, eccetera. Perché poi se la gente va a votare, poiché sul referendum non c'è un quorum. Quindi vale chi va a votare. Molti saranno disinteressati e noi dobbiamo lavorare con tutti i cittadini che invece votano per scelta. L'altra cosa è che se la Meloni farà come Renzi e quindi personalizzerà, come farà sicuramente il referendum, dobbiamo sviluppare anche il voto di tutti quelli che da qui a quando si fa il referendum, avranno visto che tipo di governo fa la destra e che disastro stanno combinando. Perché in realtà, ragazzi, è evidente che le promesse che hanno fatto non vanno bene né a quelli di destra estrema, né a quelli di destra moderata, men che meno a quelli che non li votano. Hanno detto che avrebbero cambiato l'Europa e non hanno detto manco a. Era più critico e batteva più i pugni. Conte, che è sempre stato a favore dell'Unione Europea, ma contro certe dinamiche dell'Unione Europea, che non la Meloni che appartenrebbe a un'area sovranista che è molto, teoricamente, molto critica con l'Unione Europea. E invece sta zitta, non fa niente. E allora vediamo che succede. Questi vogliono ormai distruggere Parlamento e Costituzione. Allora non piacciono. Eh sì, quello che dite sono le cose, le sensazioni che abbiamo tutti. Ecco perché noi dobbiamo lavorare da subito. Io addirittura già farei subito la campagna con vota no al referendum Costituzionale. Poi se non ci arriva, loro non riescono a votare la riforma, il Parlamento si scioglie prima, questo governo cade prima, eh viva Dio, siamo contentissimi tutti. Però noi dobbiamo già attrezzarci anche con la trincea rispetto alla difesa della Costituzione esistente. Guardate, questo è importante. È molto importante che lo acquisiamo come elemento culturale. Non dobbiamo rassegnarci al fatto che possano cambiare la Costituzione, perché hanno giurato sulla Costituzione per cambiarla. Simone, allora è evidente che la Costituzione può essere cambiata. L'hanno cambiata anche i 5 Stelle quando hanno ridotto il numero dei parlamentari. L'hanno cambiata quando si fece la riforma per introdurre. Quindi non è un reato cambiare la Costituzione. Questo dobbiamo dirlo perché dobbiamo essere onesti nelle cose. Il tema è se o cambio una Costituzione per far saltare degli equilibri che erano alla base, sto facendo una riforma legittima ma politicamente scandalosa. Quindi non è che c'è il reato di violazione, perché la Costituzione, lo dice la Costituzione, può essere cambiata con delle maggioranze particolari e se la maggioranza non è molto alta si va al referendum. E questo c'è. È successo con il federalismo, secondo me con errori già all'epoca che fece il centrosinistra, per essere chiari. Travolti dalla logica di fare la sfida alla Lega sul rendere l'Italia più federale. Cazzate perché noi sono anni che facciamo alcune leggi, alcune cose, sull'onda dell'emotività, dell'emozione e dell'incapacità di ragionare. E questo noi dobbiamo dircelo con molta franchezza. Anche facendo autocritica da parte di chi ha pensato di fare cose perché le regioni erano importanti e poi ha visto cosa si è ridotto. Cosa voleva fare la Renza e la Bosca? Certo, è la stessa cosa. Vabbè, non vanno a casa, ha sentito ieri dalla Casellati. Ma guarda, io non lo so se vanno o non vanno a casa, se beccano un ceffone al referendum poi politicamente la cosa conta. Nessuno vuole andare a casa, però poi quando succedono certi patatrac, devono andare a casa. Non dimentichiamoci che Renzi se ne andò, ma mica portò il Paese alle elezioni. Non ebbe questo. Mise gentiloni per continuare comunque a gestire il potere. Quindi è chiaro che nessuno cerca di andarsene. Noi dobbiamo capire che va costruita un'alternativa alle destre capace di essere credibile per chi non ce la fa più di avere questa destra. Questo è fondamentale. Perché se non hai un'alternativa credibile, è chiaro che questi restano anche se sono incapaci, anche se litiano, anche se si ammazzano. Oppure al peggio cade e fanno un governo magari con la russa Presidente, allora è meglio. Quindi dobbiamo avere un'alternativa alle destre, secondo me guidata da Conte, che sia in grado di offrire ai cittadini un'alternativa se si dovesse precipitare e andare al voto. E allora è più credibile che uno fa lo sforzo per andare a votare, quando sa che c'è un'alternativa. E poi avete visto che qualcosa sta iniziando a sostenere. Ma ho visto che non piace la proposta. Eh sì, la proposta l'ho detto all'inizio. C'era una proposta addirittura perché i condannati potessero avere incarichi, grazie anche all'azione forte. Devo dire che hanno fatto i parlamentari di 5 Stelle, quindi hanno dovuto fare retromarcia, perché poi tutti quando tu accendi le luci su una cosa oscena... Poi in Albania aumentano le proteste. E beh, perché giustamente... Ma perché queste sono follie, ma vi pare possibile che la soluzione del problema dei migranti è prendere i migranti che arrivano in Italia e li metti in alcuni centri in Albania? Ma dico, ma dove vivono? Hanno visto questa ipotesi che ha fatto l'Inghilterra, che addirittura ha preso, ha fatto l'accordo del governo del Ruanda, addirittura là a migliaia di chilometri di distanza, e nessun tribunale inglese ha mai accettato che un migrante fosse trasferito in un altro paese. Ma per favore... Ma queste sono tutte iniziative che servono a distogliere l'attenzione dal disastro di una legge di bilancio che fa schifo. Allora, perché la legge ha aumentato addirittura le tasse sui pannolini dei bambini. Ma pensate a te... Ma dico, ma quale matto può pensare che per raccattare che cosa? Qualche milioni di euro, perché non credo che l'IVA sui pannolini dei bambini in un paese che ha bassa natalità, peraltro, sia una roba che risolve le casse dello Stato. Quindi significa essere semplicemente incapaci o essere disperati. Cioè vi siete venduto tutto, non avete svuotato le casse dello Stato e dovete fare qualche soldino sui pannolini dei bambini. Allora, un governo che fa questo, ovviamente che cerca di fare? Cerca di lanciare ogni volta nuove iniziative che fanno distogliere l'attenzione. Cioè le persone dicono, ma allora adesso parliamo dell'Albania. Ma per favore, ma per favore. Ma comunque, vediamo, l'Europa non ha dato l'ok al bilancio, ma secondo me l'ok al bilancio in questo disastro ancora non lo può dare nessuno perché è un governo sgangherato che tra l'altro cambia continuamente la legge. Prima hanno detto che non c'erano emendamenti, poi la Lega e Forza Italia se ne sono strafregati di quello che ha detto la Meloni e hanno fatto gli emendamenti. Poi in Parlamento si cerca di fare qualche operazione. Cioè a me sembrano veramente direttante lo sbaraglio. Si diceva sempre e venivano sempre accusati i Cinque Stelle di essere scappati di casa, incapaci, eccetera. Ma adesso mi sembra che il livello sia davvero, come dire, incredibile. Ma se oggi il Tar del Lazio gli boccia perfino, hanno scritto male perfino la norma che obbliga il benzinaio ad esporre i prezzi. E devo dire, funzioni o non funzioni quella cosa non lo so. Ma il fatto che un governo non scriva bene una norma su una cosa fattibile, perché lo Stato può imporre un elemento di trasparenza. Poi che sia efficace o meno, non lo so. Che poi sia un trucco per non spiegare ai cittadini la verità, e cioè la verità semplice è che il governo non ha fatto niente sulle accise, non è intervenuto per abbassare i prezzi e ha cercato di inventarsi una cosa per dire così, io vi garantisco attraverso la concorrenza. Nessun risultato. Ma detto questo significa che tu non sai scrivere nemmeno una legge, perché se il Tar te la blocca significa che non sei capace, perché non era una cosa impossibile. Non è che il governo non può fare una cosa del genere, semplicemente non sai scrivere il provvedimento. Quindi sei un dilettante. Ecco, dilettante dice Simone, è esattamente così. Allora, l'altra cosa abbiamo detto, lavoriamo per diffondere elementi di conoscenza. Poi ci sono le elezioni regionali, ci saranno la prima tornata, faranno l'Abruzzo e la Sardegna. In Abruzzo PD, 5 Stelle, hanno candidato il Rettore dell'Università di Terra, una bravissima persona. In Sardegna hanno candidato la Tod, che è stata una brava viceministra e oggi è una candidata, la prima candidata donna che ha la possibilità concreta di diventare Presidente della Sardegna, ha fatto già i primi passi, secondo me, giusti, ricordando come la Sardegna deve riprendersi una forte capacità di iniziativa non basata sulle chiacchiere, sulle lamentele, su quel pseudo-sardismo che poi non ha portato niente alla Sardegna. Perché è come dire, l'aggiunta oscente sarebbe l'aggiunta leghista sardista di centrodestra che in questi cinque anni non ha dimostrato di fare nulla per riqualificare, rilanciare e dare forza a questa regione importante del nostro paese che è stata sgovernata. Questa è la realtà. Quindi, quello che è importante è questo, la seconda cosa importante è che finalmente ci si rende conto che bisogna creare delle alleanze forti, valide, a Firenze si voterà nel 2024, adesso non cito tutte le elezioni, si voterà anche in Piemonte, si voterà anche in Umbria, si voterà in tanti comuni importanti, vengo da poco da Pesaro, dove tra l'altro è stata la prima giunta dove il PD ha creato la accordo con i Cinque Stelle dopo le elezioni, quindi non prima ma anche superando una rottura forte che c'era stata. Quindi si sta maturando la capacità di riuscire a fare anche delle alleanze, purché si facciano con le persone giuste e su temi chiari e trasparenti, che non siano delle accozzaglie fatte solo per cercare di avere un qualche voto in più e poi si crolla subito dopo. Quello non lo si può fare, perché la gente già è schifata. Io tra l'altro in molti casi vedo molti che vogliono votare solo liste civiche indipendenti dai partiti, perché hanno sulle palle tutti i partiti, tutti! Vi è chiaro cosa sta succedendo? Io provocatoriamente dico che se sulla scheda elettorale ci fosse un piccolo riquadro dove c'è scritto voto contro tutti, io credo che prenderebbe un sacco di voti. Secondo voi, se sulla scheda elettorale, oltre ai simboli dei partiti, ci fosse un riquadro che dice voto contro tutti e magari a quel riquadro è abbinato il fatto che il numero di seggi distribuiti diminuisce a secondo di quanti dicono no, non vogliamo dare nessun seggio a nessun partito. Secondo me avrebbe tanto consenso. Voi che ne pensate? Che numeri dareste? Secondo voi, chi voterebbe contro tutti? Ecco perché. Perché la sensazione dei cittadini è di sconforto. Ed ecco perché serve da parte dei progressisti un'azione forte, energica, capace. Ecco perché ci serve una grande alleanza su contenuti veri. Dire alle persone vogliamo fare davvero il salario minimo, vogliamo dare davvero un minimo reddito a tutti quelli che non hanno nessuna possibilità. Vogliamo creare nuovo lavoro, vogliamo dare il trasporto pubblico gratuito almeno ai giovani, visto che vogliamo eliminare l'inquinamento. Vogliamo fare 10.000 cantieri contro il distesso idrogeologico in modo che la gente non muoia quando ci sono le frane e le alluvioni perché il nostro paese vede il 96-97% dei comuni a rischio frane. Ma sapete che su 800.000 frane che esistono in Europa, c'è un censimento dall'alto, dai sateliti si vedono quante frane ci sono. Secondo voi, su 800.000 frane in tutta Europa, quante ce ne stanno in Italia? Quante sono le frane attive in Italia? Voglio vedere se qualcuno ha qualche idea. Lo spettacolo della politica è deprimente, certo, serve un'alleanza di contenuto, perfetto. Ancora, guarda che i mafiosi hanno gioco le liste, le liste ce l'hanno i mafiosi, lo so, dobbiamo fare delle liste buone. Le liste giuste vanno fatte in modo trasparente da persone per bene. Allora, qualcuno sa dirmi, secondo lui, di 800.000 frane che ci sono, 800.000 frane attive nel mondo, scusate, in Europa, in Europa. Su 800.000 frane in Europa, secondo voi, quante ce ne stanno in Italia? No, per farvi capire l'entità del disastro geologico italiano. È una domanda molto tecnica, quindi deduco che nessuno mi riesce a rispondere. Però ve lo dico io. Su più di 800.000 frane censite in… Ecco, Andrea dice il 30% in Italia. Andrea, bisogna salire, salire di molto, di molto, di molto. Pensate su più di 800.000 frane. Simona dice il 60%. Ti sei avvicinato. Allora, su più di 800.000 frane censite in… 100%. Ah, 100.000. No, Angelo, sulle 800.000 frane censite in Europa, in Italia ce ne sono circa 650.000. Cioè, su 800.000, su 800.000, oltre 600.000 sono in Italia. Allora, capite perché da noi il disastro geologico è importante? Capite perché da noi bisogna creare lavoro nel creare 10.000 cantieri per la messa in sicurezza? Quando vi ho raccontato che io, da Ministro dell'Ambiente, litigando furiosamente col Ministro dell'Economia che non mi voleva dare i soldi, il compianto pado a schiocchi, però era, come dire, il Ministro dell'Economia cerca sempre di non darti i soldi. Io ho fatto il pazzo su questa cosa e sono riuscito a strappare un miliardo di euro. E sono riuscito a togliere i soldi al ponte sullo stretto e là si dispiacque di Pietro, perché di Pietro e i suoi funzionari continuavano a parlare del ponte. Allora, la realtà è che lì noi riuscimmo con un miliardo, in tre anni, a fare attivare, l'hanno fatto addirittura con gli stessi soldi che ho lasciato io anche il governo successivo, pensate, circa mille cantieri, dando lavoro a decine di migliaia di persone, mettendo in sicurezza una serie di posti. E io l'ho fatto in modo trasparente, non dando i soldi ai comuni dove stavano gli amici miei, ma dando i soldi secondo criteri, obiettivi di gravità e di importanza. Perché io dissi io non voglio sapere niente. Il ministro non interviene su chi devono avere i soldi. Il ministro dice al direttore generale, alle strutture, create un sistema trasparente. Io sono orgoglioso che ogni tanto trovo persone, l'ho trovata un anno fa, mi pare, ex sindaci della zona dell'Amiata, che disse noi abbiamo salvato mezzo paese grazie ai soldi che il suo ministro ha dato, ma noi neanche la conoscevamo. Ma la politica seria è questa. Io mica devo dare i soldi a quelli che conosco. Io devo fare in modo che si faccia un lavoro trasparente che serve a tutti. Dopodiché l'orgoglio che ho è che c'ho gente che mi ringrazia e che dice io neanche la conoscevo, ministro. Neanche votavo per lei perché erano di altre formazioni politiche, ma lei ci ha dato, lei, il ministero che lei guidava, ci ha dato le risorse necessarie a salvare il nostro paese dalle frane o d'alcune cose. Questa è la politica seria e si può fare, e si può fare, e si può fare. Allora adesso che ci sono le risorse del PNRR che ha portato Conte, che sono 200 miliardi di euro, 200 miliardi di euro, ma se noi abbiamo 600 mila frane attive in Italia. Ora non tutte, alcune stanno in posti perduti, quindi non cadono sull'abitato e quindi non sono un'emergenza, ma quelle che sono emergenziali, ma i posti dove ci sono fiumi che possono esondare e creare problemi. Invece di fare una grande azione con 10 mila cantieri, alcuni contro le frane e tutti fatti secondo una cosa che si chiama ingegneria naturalistica. Che significa? Significa che se in alcune zone ho un'area franosa e uso per esempio il salice, la pianta, le talee di salice, per mettere in sicurezza quella zona. Quelle funzionano meglio del cemento e costano 10 volte meno. Allora gli affaristi e gli imbroglioni vogliono fare il muraglione di cemento. Gli ingegneri naturalistici, che lavorano guardando il meglio della natura, possono fare cose fatte bene. Allora, mentre poi ci sono dei deficienti che parlano, come vedete quando le dirette vanno a forte, alla fine ci sono i deficienti, i troll che parlano a cazzo. Però, perché questo lavoro l'abbiamo fatto noi e quello è un dato di fatto. Mentre questi della destra non fanno una mazza, questo è il dato. Ecco perché io voglio essere molto chiaro. Basta! E quando vedo questi che sono elettori di destra deficienti, perché poi sono pure elettori di destra, non deficienti che oggi si vergognano di aver votato male. E sono persone che capiscono. Ma che un cretino non capisca che il governo che ha avuto, appena il governo senza età, c'è stato. Prima le Marche, poi Ischia, poi l'Emilia Romagna, adesso la Toscana. Ma hanno capito o no che è cambiato il clima e che è pericolosa l'emergenza climatica. Hanno capito o no che solo queste quattro emergenze, per i lavori da fare, ci costeranno 10-15 miliardi di euro e che invece fare le cose prima ne costava un decimo. Questa è la realtà. Se io faccio l'intervento prima costa un decimo, un ventesimo, un centesimo di quello. E do lavoro a migliaia e migliaia di persone aprendo migliaia di cantieri. Questo si deve fare. Questa è la sfida. Questo governo non sarà capace di farlo, ma allora bisogna costruire l'alleanza guidata da Conte che possa portarci a fare queste cose che vanno fatte. E intanto che vinciamo le elezioni nazionali bisogna vincere in Abruzzo e in Sardegna. Poi bisogna vincere nei comuni dove si vota. Poi bisogna vincere in Piemonte. Non so adesso quale altra regione c'è che va al voto, ma ce ne stanno altre. Sicuramente l'Umbria anche va al voto. La Basilicata va al voto. Qua nel 2024 votano 5 regioni sulle 20 italiane. Ora alcune sono più grandi, alcune sono più piccole, molte sono minori perché non sono popolosissime. Ma è importante che qui si dia un segnale di capacità, un segnale di forza. Capito? Allora, non so adesso chi si parla e con chi parlano perché vedo ogni tanto delle allegre discussioni. Intanto io vi saluto, vi auguro un buon weekend. Grande attenzione dove c'è l'allerta meteo che poi è allerta, crisi climatica, come io dico. Domani mattina mi vedrete a Mi Mandare 3 che abbiamo registrato oggi dove parleremo di dissesto ideologico, parleremo di che cosa bisogna fare e ve lo consiglio domani perché Mi Mandare 3 ha fatto dei servizi bellissimi che fanno capire la gravità del dissesto ideologico. Tra le altre cose, dando proprio notizie, come quella che vi ho detto io, di quante frane ci sono in Europa e quante ce ne stanno in Italia, facendo rivedere le emergenze delle alluvioni e del dissesto ideologico fin da quella di Sarno, dopo la quale si fece la prima legge Sarno contro il dissesto ideologico. Noi dobbiamo lavorare con questa capacità e in questa direzione. Io intanto adesso guardo, eliminate i troll, i troll intanto Anselmo e gli altri li staccano, se anche voi li segnalate a Facebook non non fate un'oncia di danno perché se fate una, due, tre volte la segnalazione vengono eliminati da Facebook. Quindi attaccate anche voi, non dite sempre fate, ma fate direttamente voi, vabbè? Perché i ragazzi come Anselmo, Manu e degli altri lavorano quotidianamente a cercare di rilanciare la rete codigita. Io continuo a farlo perché ci credo, anche se me ne potrei strafottere come si dice, perché io insegno all'università, ho fatto tante cose, le ho fatte in modo dignitoso, potrei mettermi tranquillamente a guardare e a scrivere libri. Invece no, invece no perché io ci credo che possiamo cambiare questo Paese. E allora non voglio gente che si lamenta, voglio gente attiva, attivisti digitali, anche fisici se vogliono fare cose direttamente sono benvenuti. Dobbiamo avere la capacità di agire, non il Paese del lamento a cazzo, ma il Paese delle azioni concrete. Questo serve. Perché gli italiani si lamentano e poi vanno a votare peggio destra. Invece bisogna essere capaci. Ed ecco perché io sto creando pian piano un sistema che vi dia anche gli strumenti, anche semplici, per cui capite che mettete un like su una persona che può essere aiutata, capite che potete fare qualcosa e se domani saremo capaci di fare delle campagne di raccolta fondi per le cose giuste, faremo anche quelli e misureremo chi di voi, oltre a parlare che bisogna cambiare le cose, agisce perché le cose si cambiano. Perché anche questo dobbiamo fare. Perché non è che esiste una politica astratta diversa da quella dei cittadini che fanno le cose. Quindi buon weekend, un salutone, iscrivetevi al gruppo EcoDigital verso il 2050. Ringraziate, come ringrazio sempre, i giovani EcoDigital che si impegnano anche ad aiutare questa pagina a consentire ai cittadini di avere notizie. Quindi lavoriamo, lavoriamo bene e lavoriamo con determinazione. Ciao. Ciao.